Buon salve, bentornati su No Mamamazzo e buon primo maggio a tutti. Cominciamo questo mese con la recensione del Dilan Dog uscito ieri. In questo caso è Dilan Dog 404 Anna per sempre. Chiaro riferimento al Dilan Dog numero 4, il fantasma di Anna Never. Fantasma di Anna Never che io non avevo ancora letto ma approfitto per ringraziare Valli del gruppo Telegram No Mamazzati che mi ha procurato in questo tempo di quarantena il pdf per poterlo recuperare e quindi avere un giudizio di questo numero anche sulla base di Il Fantasma di Anna Never. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, di attivare la campanella delle notifiche per questo video, di condividere il video con tutte le persone che amano Dilan Dog sia in questo corso che in quello vecchio e di commentare qui sotto con quello che ve ne pare di questo nuovo corso 666, di cosa ve ne parso di questo numero Anna per sempre. In generale datemi una vostra opinione, un vostro riscontro su Dilan Dog. Bene, cominciamo. Allora, se nel numero scorso La lama, la luna e l'orco, Recchioni ha fatto una specie di omaggio al numero 2 e al numero 3 di Dilan Dog, ma poi costruendo una storia completamente diversa, completamente nuova, dandoci anche le prime tracce di quella che sarà, spero, una trama orizzontale sulla ricerca di un serial killer che uccide le sue vittime in modo comico, cioè rifacendosi a delle barzellette, in questo numero invece si torna a citare un singolo numero, cioè il numero 4 di Dilan Dog, al di là dell'epilogo finale che è un prologo al numero 5. Ciò non toglie che questo numero sia comunque stravolto rispetto al numero originale e, a parer mio, anche migliorato, tolto del superfluo che era presente nel numero 4 di Dilan Dog. Quindi Recchioni comunque ci regala una storia nuova, vincente, con un fantastico plot twist. E adesso andiamo bene a spiegare cosa intendo. Inutile dire che questo sia anche il numero con la copertina che attira più di tutti rispetto agli altri tre, ma anche rispetto a tutto ciò che si può trovare ora in edicola, perché c'è questo effetto quasi etereo proprio di fantasma che c'è attorno ad Anna, c'è Dilan Dog che la guarda. Oltre a questo effetto che sta caratterizzando anche gli altri tre numeri della serie 666, abbiamo anche un leggero rilievo di Dilan Dog e rilievo. La scritta di Dilan Dog è in rilievo, ok? Quindi questo è, e penso anche contando i prossimi due numeri, secondo me credo sia il miglior, la miglior copertina, sia nel disegno sia nella stampa. Allora, vorrei partire facendo un piccolissimo riassunto di Il fantasma di Anna Never, il numero 4, che come vi ho detto all'inizio, io non avevo letto, non è tra i primi numeri di Dilan Dog che io avevo, poi il personaggio di Anna Never l'ho conosciuto negli altri numeri dove appare, personaggio che comunque mi è sempre stato un po' antipatico, perché l'ho sempre visto come un personaggio un po' stupido, oltre che goffo. Va bene un personaggio goffo, va bene un personaggio stupido, entrambe le cose è fastidioso. È un po' il Jar Jar Binks di Dilan Dog, dal mio punto di vista, a me non è mai piaciuto Anna per quello, perché va bene fare la gag che è distratta, che fa i danni, però fino a un certo punto dopo un po' stanca. Questo numero invece ha rivalutato alla grande questo personaggio. Andiamo con ordine. Nel numero 4 di Dilan Dog appare un amico, amico di Dilan Dog, un certo guy, tizio in italiano, un certo tizio, che praticamente si vede da subito che ha un problema di alcolismo, ha un problema di alcolismo, chiama Dilan Dog perché vede quello che potrebbe essere un fantasma, che poi si scopre ha le stesse sembianze di Anna Never. Dilan Dog, dato che è un suo amico, indaga gratuitamente uno dei tantissimi casi a cui Dilan Dog prenderà parte senza farsi pagare, indaga gratuitamente su questa cosa, ma già da subito lui ha il sentore che si tratta semplicemente dell'alcolismo del suo amico Guy che sta derivando, nonostante Guy gli abbia fatto presente che si stia disintossicando, si stia disintossicando anche grazie all'ipnosi. Fatto sta che questa ipnosi potrebbe essere anche la causa stessa del fatto che l'amico di Dilan, Guy, veda, diciamo, questi strani fantasmi, o meglio, veda il fantasma di una persona che in realtà innanzitutto non è morta, perché Anna Never non è morta, e poi sarà una sua collega, la vedrà l'indomani per la prima volta, quindi questo lo destabilizza parecchio al punto che torna facilmente sulla strada del vizio, sulla strada del bere e anche del fumare, perché poi spiegheranno che fumava e beveva, ma principalmente aveva un problema di alcolismo, ed è una storia di per sé anche apprezzabile, ma l'idea che questa storia che ho letto, il fantasma di Anna Never, sia semplicemente il numero quattro di Dilan Dog, che ci siano stati solo l'alba dei morti viventi, Notti di luna piena, Jack lo squartatore, e il quarto sia il fantasma di Anna Never, davvero è una storia che non ha nulla di Dilan Dog, non c'è nulla di sovrannaturale, ed è davvero strano come possa aver avuto successo, mi domando davvero come ha potuto avere successo quella storia, non è una storia esageratamente bella, è anche molto sconclusionata, c'è un Groucho Marx, però fantastico, io l'ho adorato, presente nella storia, collaborativo, oltre che con le battute sempre sul pezzo, anche perché la maggior parte del numero è ambientato in degli studi televisivi, dove lui in passato lavorava, a quanto pare, quindi si trova perfettamente a suo agio. Però per il resto è una storia che ha tante cosette messe qua e là, che poi vanno ad amalgamarsi alla fine, ma non è un bel amalgamo, non riesco a capire, per esempio il ruolo stesso di Guy, per me è superfluo. E qui entra in gioco questo soft reboot che vuole fare Roberto Ricchioni con la nuova miniserie 666. Praticamente, lui l'ha detto apertamente, lui sta cercando di dare una continuità alla storia del personaggio, perché appunto se noi andiamo a riprendere le prime storie di Dylan Dogg, lui è già un indagatore dell'incubo, non si sa bene come si è arrivato a fare questa professione strana, si sapranno delle cose più avanti ma sempre messe qui e là, e invece lo scopo di Ricchioni con questa miniserie appunto è di rilanciare, ripresentare il personaggio, ma mostrandocelo, mostrandocelo non già fatto e finito, ma ci mostra il percorso che sta facendo Dylan per diventare il nostro Dylan Dogg che tutti conosciamo. E se questa era una cosa che si poteva percepire vagamente nei primi tre numeri qua, è chiarissimo, è chiarissimo perché appunto in Anna per sempre Ricchioni fa due cose. Primo, toglie tutta la fuffa che c'era nel fantasma di Anna Never, quindi via Guy, il personaggio di Guy è sostituito da Dylan. Dylan Dogg è il Guy di questa storia, nel vero senso della parola che ha lo stesso problema che aveva Guy nel fantasma di Anna Never, ovvero che ha un problema di alcolismo. Se nel numero scorso era vagamente accennato, poteva essere un po' beone, un po' ubriachetto, qua si vede proprio che c'è una spirale, una discesa verso l'inferno dell'alcolismo. Pensavo, se avete visto il numero, la mia recensione al numero scorso che vi metto qua sopra, pensavo che la storia avrebbe preso una piega diversa, magari che ci avrebbe lasciato le penne gnaghi a causa dell'alcolismo di Dylan Dogg. Qua invece pare che Dylan Dogg si accorga della spirale di autodistruzione in cui è caduto grazie a questo numero. Poi probabilmente proseguirà anche nei prossimi due numeri. Ragazzi, adesso inizio a fare spoiler, quindi se non volete che io vi anticipi la storia, andatevi in edicola a prendere questo numero, andatevelo a leggere e poi tornate qui e ascoltatevi tutto il video. Se invece avete già letto Anna per sempre, potete tranquillamente continuare ad ascoltarmi. Spoiler tra tre, due, uno. La cosa bella di questa storia è che appunto inizia con un Dylan Dogg che ha gli stessi sogni che aveva Guy all'inizio del numero quattro, quindi con il ratto che esce dal muro, il pipistrello che mangia il ratto, che come dice Dylan Dogg stesso sono anche una citazione a un racconto di Lovecraft. Poi abbiamo una scena ben più inquietante che in Anna Never, cioè questo fantasma di Anna che esce dal sangue, e si scopre appunto che Dylan Dogg sta continuando a fare strani sogni, così come Guy nel numero quattro, in cui vede Anna che uccide Dylan. Per schiarirsi un po' le idee, Dylan esce, va a teatro da solo, dove tra l'altro ottiene anche il numero di telefono di una ragazza fuori alla cassa, quindi diciamo tra virgolette quasi rimorchia. Cioè nonostante lui nella recita teatrale a tema horror a cui assiste, innanzitutto c'è un omaggio al suo amico del numero quattro, perché sono protagonisti Guy Rogers e Anna Never, quindi non sono attori di film, di un film horror in questo caso, ma di un'opera teatrale. Dylan Dogg va a vedere quest'opera teatrale, dove c'è anche Anna Never che come sempre ha un disastro, inciampa, fa casini, fa danni, di conseguenza viene licenziata da questo regista, però Dylan vuole, comunque quando la vede uscire nel backstage, vuole farle complimenti, e qua si scopre che anche Anna sogna Dylan, sogna Dylan e vuole stare lontana da Dylan perché teme di poter fare del male a Dylan, probabilmente perché si sa Anna Never è maldestra, fa un sacco di casini, rischierebbe di ucciderlo con la sua sbadataggine. Nonostante questo timore iniziale di Anna nel conoscere Dylan, nasce comunque una bella storia d'amore, tra l'altro una storia d'amore narrata da pagina 35 a pagina 68 con la tecnica del Nafsed, ovvero non ci sono balloon, non ci sono parole, è tutto visivo, è una cosa molto bella, perché ti fa immergere proprio in questa onirica storia d'amore, è anche una scelta molto coraggiosa, usare su 98 pagine di fumetto, più di 30 pagine senza balloon. È una scelta sicuramente azzardata per i fan di vecchia data di Dylan Dog che magari non si rendono conto bene di quello a cui stanno assistendo. Lo svantaggio del Nafsed è che non dovendo leggere la storia viene mangiata ancora più in fretta, quindi questo numero proprio per questo motivo si legge, si guarda in pochissimo tempo, ma la cosa bella è che si può proprio per questo motivo rileggere più volte e più volentieri. Siamo già nella parte spoiler, quindi inutile che vi dica che in questa parte vediamo proprio il crescere di questa storia d'amore, il diventare intenso di questa storia d'amore con i suoi alti e bassi, fino a che non c'è il litigio, il litigio dovuto all'alcol, al fatto che Dylan Dog in preda alla sobriacchezza vada anche con un'altra donna che mi ha ricordato anche un personaggio di Misfits, tra l'altro, Kelly di Misfits era proprio quel tipo di ragazza. C'è un litigio, dopodiché Dylan, c'è un litigio davvero molto brutto in cui si può vedere cosa può dare, gli effetti negativi che può dare l'alcol anche alle persone che ci stanno attorno, perché si rischia di fare del male, del male serio alle persone che amiamo. Dopodiché Dylan, quando si risveglia dopo questa lite in cui però pare abbiano fatto pace, vede nel letto un mostro, vede nel letto un mostro, e da cacciatore di mostri cerca di strangolarlo, per poi accorgersi che sta strangolando Anna. E io qua ho pensato, mannaggia, vuoi vedere che questa è una citazione al fatto che Guy fosse, nel numero 4, il fantasma di Anna Never, Guy è stato accusato da Dylan Dogg di avere delle allucinazioni, di avere il delirium tremens. Vuoi vedere che Dylan Dogg, in preda al delirium tremens, ha ferito mortalmente Anna Never. E infatti è successo proprio questo. Però la parte Nafsed continua e scopriamo che addirittura Dylan Dogg pare abbia ucciso Anna ed è chiaro che questo non può essere successo perché è il protagonista e il protagonista, in un'occasione del genere, non può passare 30 anni in galera. Scopriamo che si risveglia in ospedale dove la sequenza onirica finisce, viene svegliato da Rania che gli spiega cos'è successo, ma scopriamo non solo che non ha ucciso Anna, ma che Anna non esiste. E mai come in questo caso il nome Anna Never è più azzeccato perché Anna non c'è, non c'è mai stata. È un parto della follia di Dylan che, tra l'altro, mentre continua a stare in ospedale, cerca di capire cosa sta succedendo nella sua testa. Tra l'altro quest'opera è recchioniana per tantissimi motivi, perché vediamo ancora un Dylan Dogg che passa del tempo in ospedale ed è inesorabile il pensiero a un altro numero di Dylan Dogg che passa molto tempo in ospedale. Vediamo Dylan Dogg che trova in ospedale Anna Never e lì capiamo dove è andato a parare Roberto Orecchioni. In questa opera si è superato nel senso che ha raggiunto il culmine di quella che probabilmente lui descriveva già qualche tempo fa come il terzo capitolo della sua trilogia Mater. Abbiamo avuto Mater Morbi, abbiamo avuto Mater Dolorosa e voleva concludere la sua trilogia col numero 400, ma ha preferito dare spazio totale a Dylan Dogg con una semplice comparsa della sua creatura Mater Morbi, ma qua invece la sfrutta a piene mani e gli dà una degna conclusione se così vogliamo chiamarla. Scopriamo che Anna Never altri non è, oltre che un parto della mente di Dylan Dogg e non una persona reale fastidiosa come nella serie classica, altri non è che Mater Morbi. Un vero peccato, un vero peccato che purtroppo la sorpresa sia stata un po' rovinata dal fatto che nel momento in cui giri pagina già qua lo vedi. Se fosse stato un cambio pagina sarebbe stato il top. Qua chiaramente non è colpa dell'autore, è un discorso di impaginazione, non so se è voluta la cosa oppure no, però sarebbe stato il massimo. Invece come ho girato la pagina ho mangiato subito la foglia, però devo dire che è stato un plot twist davvero azzeccato perché l'alcolismo è una malattia. Essere ubriachi non è una malattia, ma essere un alcolista, essere un alcolizzato è una malattia anche fisica, ci cambia la chimica del corpo, del cervello e la madre di tutte le malattie non poteva mancare. Qua vediamo proprio un rapporto di padrona e schiavo che giustifica ancora di più il fatto che Mater Morbi sia vestita in questo modo. Vediamo questo rapporto tra padrona e schiavo, tra Mater Morbi che è la malattia, ma in questo caso è il vizio e l'alcolismo e il non poter uscire da questa dipendenza praticamente. Quindi in questo caso malattia è inteso anche come dipendenza fisica da cui anche il rapporto tra padrone e schiavo. Vediamo che Dylan per la prima volta quando si rende conto di chi è Anna, quando si rende conto che Anna è la sua malattia, cioè l'alcolismo, per la prima volta lui lo accetta e questa cosa spiazza Mater Morbi. Vediamo subito che Mater Morbi non vuole che Dylan ammetta di essere un alcolista perché ammetterlo è il primo passo, quindi è il primo passo per allontanarsi da Mater Morbi. Mater Morbi vuole Dylan con sé, è debole senza Dylan, non è niente senza Dylan. C'è anche un plot twist nel plot twist perché nel momento in cui Dylan accetta di essere un alcolista io pensavo che Mater Morbi scomparisse e invece no, l'accetta e accetta la malattia come parte di sé perché essere un alcolista è una cosa che non se ne va mai, per questo che gli alcolisti quando si disintossicano non toccano più un goccio di alcol per evitare di ricadere in questa spirale. Dylan dice ok, sì, tu sei la mia malattia, tu sei parte, sei una parte di me e tende una mano alla propria parte di sé, tende una mano alla propria malattia, quindi si danno un bacio molto appassionato, non più, non c'è più questo rapporto tra padrona e schiavo, ma c'è un rapporto quasi amoroso, quasi affettuoso, gli dà una carezza e gli dice anche io avrò cura di te, citando la cura di Battiato. Tra l'altro la cura di Battiato si contrappone alla malattia che rappresenta Mater Morbi. chicca nelle chicche, la cura di Battiato è una canzone che Battiato ha dedicato a sua madre. Ora, sperando proprio che Battiato non avesse lo stesso rapporto che a Dylan con Mater Morbi in questa scena, è bello il gioco di parole come la cura è dedicata alla madre di Battiato e qua Dylan Dog dice questa frase a Mater Morbi, cioè alla madre della malattia. Fanno l'amore, Buio fanno proprio l'amore non c'è nulla di sadomaso nulla di negativo sembra proprio una cosa appassionata Buio e Dylan esce dall'ospedale e trova suo padre suo padre adottivo il soprintendente soprintendente Block che lo aspetta capisce che Anna ovvero Mater Morbi ovvero la sua malattia e il suo alcolismo non lo lascerà mai Anna è per sempre ed è per questo che la vede spesso la vedrà spesso nei momenti bui infatti lo vediamo che guarda al cielo e vede questa figura femminile che in una scena mi è anche sembrata Lily Connolly però è un po' fuori contesto quindi presumo che lui ogni tanto guarda e sente che Anna c'è sente che la sua malattia è lì che fa capolino e chiede a Block di accompagnarlo all'anonima alcolisti si chiude la storia con un abbraccio tra padre e figlio e poi c'è il prologo al prossimo numero è un numero davvero che mi è piaciuto tantissimo l'unica pecca se ci devo trovare una pecca è che mi è piaciuto di più il terzo a differenza di molti di voi che l'hanno preferito tra tutti i quattro numeri finora usciti a me è piaciuto un po' di più il terzo perché ha gettato le basi per questa trama orizzontale di questo serial killer che speravo di vedere un po' anche qua invece non si è vista spero che si veda nel prossimo numero o nell'ultimo numero della saga 666 vorrei fare un appunto farvi notare i libri che legge Gnaghi durante durante tutta questa durante tutta questa storia nella inizialmente Gnaghi legge la fisica dei quanti mentre ha letto a dormire e mentre invece è in ospedale che sta assistendo a un Dylan incosciente sul letto di ospedale sta leggendo allora la critica alla pura ragione di Kant quindi sta leggendo filosofia e fisica quantistica fa è una cosa che se vi scappa l'occhio sulla copertina del libro vi fa morire da ridere che una persona come Gnaghi legga questi libri mi è piaciuto tantissimo che anche qua ci sia un rimando al numero 4 il fantasma di Anna Never dove Anna rompe il galeone di Dylan Dog anche se nel numero 4 era dovuto alla sbadataggine di Anna qui è dovuto al litigio che hanno Dylan e Anna quindi ha molto più senso tra l'altro in questo mega litigio Anna prende anche il teschio di Dylan che è una citazione a Francesco della Morte e glielo spacca in testa sempre altra citazione a Francesco della Morte vediamo in un flashback che anche l'ognaghi di Dylan Dog 666 ha avuto una relazione con una non morta con la testa di una non morta per citare ancora della morte dell'amore è pur vero che se Dylan si è immaginato tutto chiaramente non è stata Anna a distruggere il veliero ma probabilmente lo ha distrutto Dylan in preda al delirio prima di lasciarci parliamo un attimino dell'epilogo cioè o meglio scusate del prologo al prossimo numero dove in una fantastica giornata di sole a Londra si vede la ruota panoramica famosissima di Londra vediamo un netturbino che dal nulla prende una pala e ammazza un ragazzo tra l'altro questo ragazzo era sul prato steso con un amico non so se era un amico o un po' di più forse era una coppia gay non lo so e vediamo questo tizio che con un badile apre la pancia di uno dei due ragazzi e lì per lì uno pensa ah cavoli l'omicidio a scopo di odio può essere magari anche una citazione al fatto che molti hanno odiato il 399 dove Dylan sposava Grouch e si erano aperte le polemiche sul matrimonio gay invece subito dal nulla vediamo che questo tizio dopo che ammazza questi ragazzi a questo punto senza motivo viene a sua volta preso a rivoltellate da una vecchina che non so perché ha una pistola anche un calibro abbastanza importante gli viene spappolata la faccia a rivoltellate questa vecchina a sua volta viene travolta da un camper poi vediamo una scena in cui a uno gli schiacciano gli occhi stile Game of Thrones gente che viene annegata gente che viene bruciata e vediamo la stessa scena di prima in una fantastica giornata di sole a Londra dove tutti si si ammazzano la cosa buffa è che il prossimo numero dopo questa premessa non si chiamerà gli uccisori come il numero 5 di Dylan Dogg ma semplicemente l'uccisore ma chi è l'uccisore che si sono ammazzati tutti vabbè lo scopriremo nel prossimo numero copertina del prossimo numero fantastica che ricorda tantissimo una scena della morte dell'amore tra l'altro di cui ho fatto una live andatela a recuperare se volete la guardate insieme al film con i miei commenti c'è anche Kuro del canale di Kuro e Luca DJ del canale Luca DJ andatela a recuperare oltre a sembrare questa scena una tipica scena dell'ispettore Callahan di di Clint Eastwood mi è piaciuta tantissimo ragazzi io continuano a darci un sacco di fantastiche tavole io vorrei farle diventare tutti dei quadri fortunatamente in quarantena non posso andare in tipografia perché davvero c'è l'imbarazzo della scelta io con questo è tutto mi sono dilungato davvero troppo ma tanto di Dilan Dog ci piace raccontarci così un po' a lungo io come sempre vi ringrazio per avermi seguiti fino a qua vi ricordo sempre di iscrivervi al canale eccetera eccetera quello che ho detto all'inizio e come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e ci vediamo nel prossimo numero dove spero abbiano riaperto i barbieri se no la persona con la barba sarò io e non Dilan arrivederci grazie a tutti grazie a tutti